un brawler per la sfida di una settimana un brawler ed è tara che ho già portato a livello 7 gli ho comprati il gadget delle ombre vabbè ovviamente la prima partita è contro i bot perché ho 0 coppe con tara essendola sbloccata durante un'altra sfida di un brawler una settimana qui c'è una pam vabbè io li vado addosso come un bot solo perché sono anche loro bot quindi c'è capito è tutto un collegamento mettiamo le ombre no ok perfetto scontro finale e contro chi sarà contro quel gray lì che mi ha fatto sprecare la super quindi ora avrò una bella lezione e ragazzi prima partita fatta ci vediamo domani con recap ora posso dire no nemmeno ora posso dire no nemmeno ah si forse si aspettate no nemmeno aspettate che apriamo un attimo questa star drop e finalmente ora posso dire ci vediamo domani con recap del primo giorno ciao